Ciao! Adesso arrivano! Buongiorno Gabriele! Buongiorno a te! Ciao! Ciao! Tutto bene? Si! Ciao! Ciao Gabriele! Hai visto la mamma? Non c'è più! Ciao! Buongiorno Gabriele! Super professionale! Come sempre! Allora questa è la prima foto fatta! Wow che bella! Sono bene Gabriele? Si diciamo di si! Ma è a scopo dimostrativo immagino! Se vuoi ti metto pure una foto! Ah! Ragazzi aspetta! Monta un obiettivo! Ragazzi non andate via! Monta un obiettivo storico! Monta un obiettivo storico! Ho fatto due cose che valgono non solo oggi anche domani! Ho fotografato una sposa bellissima cinese che si era appena sposata in municipio e gli ho fatto una foto con la minutera! Dai! Bellissimo! Una cosa! Guarda! L'ho chiamata e lei è stata contentissima! Gli ho regalato una foto! Ho baciato la sposa! Ed è stato un sogno! Bellissimo! Gli ho regalato la foto e mi ha detto cosa ti devo? Niente! Un bacio della sposa! Belli trotto! Era pure molto carino! Molto carino! Molto carino! Allora il negativo? Questo è il positivo! Ma secondo me da perfezionare appena appena! Grazie mille! Grazie a voi! Grazie a voi! Gabriele! Questi ragazzi qui sono di rosignano! Sono venuti a vedere la mostra! Qui dentro voi potete vedere se... Ecco li siete a posto! L'ho spostato! Non lo spostato! E' unitario che sta a posto! E' unitario che sta a posto! E ora si risvince! E vorrei, in un santo bravo, la mia prima foto la mia foto